Buone notizie per Lorella Cuccarini, che dopo essere rimasta senza programmi nella scorsa stagione televisiva potrebbe ora diventare il quarto giudice del tale quale show. Davide Maggio rivela infatti in anteprima che la giuria preesistente, composta da De Sica, Loretta Goggi e Claudio Lippi, rimarrebbe invariata e verrebbe invece ad aggiungersi il quarto componente, cioè la Cuccarini. Saltata dunque per Lorella la possibilità di finire al timone di a torto o a ragione, si aprirebbe per la conduttrice l'opportunità di iniziare una nuova avventura, in un programma tra l'altro di grande successo. Voi come la vedreste dietro il banco dei giurati del tale quale show?